Forse sia vero un sogno inseguito per 40 anni. Infatti, escluso la Ecomond SRL, società privata indebitata con il comune di San Massimo per 500.000 euro di contributi non pagati, il CIS ha ripescato il progetto proposto dai comuni di Roccamandolfi e San Massimo per ampliare la stazione sciistica di Campitello Matese, ai tempi dell'Iri, tra le migliori del centro-sud d'Italia e poi per troppi anni abbandonata a se stessa. Si tratta di un'azione concreta per rilanciare il turismo e lo sviluppo dell'intera regione. Non è dato sapere però in che modo il progetto si inserisca nella programmazione turistica regionale, considerato che la gestione è assegnata alla competenza esclusiva di Invitalia e di fatto la regione viene tenuta fuori soddisfatte le amministrazioni comunali ricadenti in tutta l'area del Matese e in particolare i sindaci di San Massimo, Alfonso Leggeri e di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi. Assolutamente sì, perché si tratta di un progetto messo in piedi dalle due amministrazioni, un progetto molto ambizioso che sicuramente farà bene alla stazione sciistica di Campitello Matese. Il progetto prevede un potenziamento degli impianti già esistenti e un ampliamento sul versante di Roccamandolfi per la costruzione di nuove piste da sci, quindi il che permetterà un raddoppio del chilometraggio esistente ed un innalzamento in quota delle stesse piste. E vista anche la maggiore esposizione a nord, tutto questo consentirà alla stazione di Campitello Matese di competere con le maggiori stazioni sciistiche di tutto il territorio nazionale. È previsto anche un innevamento artificiale per la parte di Roccamandolfi? È previsto un innevamento artificiale per la parte già esistente, quindi quella che ricade sul comune di San Massimo. Per quanto riguarda la parte di Roccamandolfi è prevista una telecabbina che andrà a congiungere il paese di Roccamandolfi con gli impianti sciistici il che permetterà un circuito virtuoso che potrà essere utilizzato tanto d'inverno per la stagione sciistica tanto d'estate per poter godere dei nostri panorami bellissimi dal punto di vista ambientale e turistico. Per troppi anni la stazione di Campitello Matese è stata abbandonata dalla regione. Ma guardi, di questo ampliamento si parla da decenni. Ora non sta a me giudicare, non vogliamo nemmeno farlo. Il ruolo, le due amministrazioni comunali hanno voluto fare un salto di qualità ovvero programmare lo sviluppo del proprio territorio. Questo è un progetto ambizioso, è un progetto che avrà ricadute importanti dal punto di vista occupazionale non solo per le due comunità coinvolte, quelle di Roccamandolfi e quelle di San Massimo ma per l'intera regione molise. Quindi non guardiamo indietro ma guardiamo fiduciosi in avanti e cercheremo da oggi in poi di lavorare al massimo. Infatti la firma del contratto istituzionale di sviluppo non rappresenta un punto di arrivo, bensì un nuovo punto di partenza. Da parte delle amministrazioni comunali ci sarà impegno, dedizione e massima partecipazione anche delle comunità coinvolte.